Ciao a tutti. Oggi vorrei condividere con voi qualcosa che mi è successo di recente. Lo scorso 28 dicembre 2022, Papa Francesco ci ha informato che il Papa Emerito Benedetto XVI era molto malato e ci ha chiesto preghiere per lui. Papa Emerito Benedetto sembrò stabilizzarsi nei due giorni successivi, ma rimase gravemente malato. Pensavo che forse sarebbe rimasto con noi ancora per un po'. La sera del 30 dicembre, nella cucina di casa, avvertì improvvisamente la presenza della Madonna. Avevo già percepito la sua presenza in questo modo e sapevo che voleva dirmi qualcosa. Sembrava anche importante e piuttosto urgente. Pensavo che fosse il Papa Emerito Benedetto XVI ad essere malato. Lei sembrava dare molta importanza a questo. Niente altro accade quella notte. La mattina del 31 dicembre sentì che il Papa Emerito Benedetto XVI era morto. Ho capito che è questo che la Madonna voleva dirmi. Poiché ha disposto così tanto l'importanza su questo, ho pensato che potrebbe anche riguardare Garabandal e la profezia dei tre Papi. A Garabandal uno dei veggenti aveva riferito a sua madre che ci sarebbero stati solo altri tre Papi e che poi sarebbe arrivato alla fine dei tempi. Papa Giovanni Paolo I non è contato a causa del breve periodo di tempo che era Papa, così Papa Benedetto XVI è il terzo Papa. Anche se la Madonna non mi ha detto che si trattava della profezia di Garabandal, ho pensato che potrebbe essere a causa dell'urgenza e l'importanza che la Madonna ha posto su questo evento. La notte del 3 gennaio del 2023, due giorni prima del funerale di Papa Emerito Benedetto XVI, quando andai a letto e chiusi gli occhi, vidi immagini di Papa Emerito Benedetto XVI. Aveva il suo alto cappello papale, ma anche una corona alta su di lui. Continuava a passare dal suo cappello papale alla corona. La corona aveva qualità in periture. Sapevo che veniva dal Signore e credo che il Signore stesse dicendo che è già un santo in cielo. Ringraziamo Dio per il Papa Emerito Benedetto XVI e il suo contributo alla vita della Chiesa. E allo stesso tempo preghiamo che le intenzioni della Madonna si realizzino sulla terra. Grazie mille per l'ascolto e vi invito ad iscrivervi al mio canale.